Metterete tutti i meeting di progetto, metterete le attività che fanno capo alle relazioni con l'EACEA, metterete tutte quelle attività che fanno capo al coordinamento del progetto. Quindi che sono a un livello più alto e che non vanno nello specifico delle attività che si propone di realizzare il progetto. Poi in genere c'è il WP, quello chiamiamolo 2, tra virgolette, quelli che vengono chiamati di development. Che praticamente sono quei work packages, quelle attività che richiamano le attività che effettivamente andrete ad implementare, quelle con cui svilupperete poi il vostro progetto. Poi per esempio avete le attività, poi sempre fondamentale, chiamiamolo WP3, ma il numero è indicativo, diciamo. Quindi avete il work package dissemination, quindi la disseminazione dei risultati. Quindi sono tutte quelle attività che fanno riferimento alla comunicazione, alla promozione del progetto. Quindi è come se fosse il vostro piano di comunicazione. E poi abbiamo un altro work package fondamentale che è quello di sfruttamento dei risultati. Che viene chiamato exploitation, quindi sfruttamento dei risultati. Quindi appena avete i primi risultati del vostro progetto, praticamente inizia la diffusione e le attività di mainstreaming. Per, diciamo, qui sono tutte le attività legate anche un po' alla sostenibilità del progetto. Cioè, qui sono quelle attività che utilizzerete, cioè, descriverete quelle attività che servono a, non so, facilitare la replicabilità dei risultati. Quindi proprio, una volta avete prodotto queste cose, come intendete utilizzarle, no? Quindi qui dovete un po' descrivere quelle attività. Poi c'è il work package, sempre 4, che è quello di qualità e monitoraggio. E qui, praticamente, descriverete tutte le attività che vi servono a monitorare il progetto. Quindi, non so, tutte, per esempio, non so, ogni kick-off meeting, quindi voi direte che tutto il progetto sarà affiancato da un piano di qualità e di monitoraggio. Che vuol dire? Che, per esempio, a ogni meeting i partner risponderanno, non so, a un questionario, per vedere se effettivamente il meeting ha raggiunto i risultati posti. Se, non so, il progetto, se avevamo scritto che il sito di progetto sarebbe stato fatto a dicembre 2015, quindi serve per monitorare le attività. Tutti gli step che sono nella programmazione, tutti gli step vengono rispettati, tutti i risultati raggiunti, nei tempi, nei prodotti, se i partner hanno chiaro qual è il loro ruolo all'interno del progetto, se hanno avuto tutto il giusto spazio per esprimersi o per svolgere le attività, se il budget risponde con le spese sostenute, se è eco, insomma tutto quello che riguarda. Qual è la vita del progetto e le attività? Diciamo che, ovviamente, non in tutti i bandi è richiesto questo tipo di approccio, però sicuramente a voi come metodologia comunque un po' facilita. Poi la potete rendere più semplificata o meno, però diciamo che scrivere in un progetto europeo, che voi comunque baderete, che metterete in atto un piano di qualità e monitoraggio, comunque fa vedere che avete una certa responsabilità, che volete comunque essere sicuri che il progetto vada bene. Bene, anche questo serve, se in corso d'opera vi rendete conto che magari vi state allontanando dagli obiettivi preposti, questo serve un po' a correggere il tiro, per cui se alla fine di un meeting la valutazione dei vostri partner non è molto positiva in alcuni aspetti, in quello successivo, nell'organizzazione di quello successivo, voi sapete in quale cose dovete essere più precisi, quale correggere, quale migliorare. Ok, praticamente mettiamo che il nostro progetto è di 24 mesi, no? Mettiamo così. Ovviamente il work plan del management inizierà dal mese 1 fino al mese 24, no? Quindi avrà una durata di 24 mesi. Quindi quando compilate il budget, questa è una voce di costo che dovete spalmare per tutta la durata del progetto. Development, abbiamo detto... Attività. Con cui il progetto si sviluppa. Allora, forse prima faccio una cosa, voi dovete immaginare questo, come se fosse un gant, diciamo, no? Quindi se lo mettiamo in linea così, quindi voi avete WP1, WP2. Sapete cos'è un gant? Quindi, no? Qua abbiamo dall'1 a 24 mesi. Quindi, WP, qui poi, magari, sì, c'è una griglia 1, 2, 3, no? Quindi, dal primo mese, dal primo novembre al 30 ottobre 2016, per esempio, quindi questo WP praticamente seguirà tutto questo arco temporale. Il WP2, le attività invece, magari iniziate con una fase di ricerca, no? Quindi, questo WP2 magari inizierà dal mese 2, per esempio, perché, non so, c'è un primo mese di attività che sono solo di management, oppure lo potete fare iniziare dal mese 1, perché magari parte un po' in contemporanea, e quindi però dura, non so, tre mesi, no? Perché, alla fine, qui, raggiungerete un primo risultato, che è la pubblicazione, per esempio, dei risultati della ricerca. E quella dovrà essere valutata in questo? Per esempio, poi, ecco, magari dovete... avete un'altra attività, no? Che una volta fatta la ricerca, adesso, non so, adesso svilupperete, non so, un manuale, scriverete un manuale. Quindi, in base ai risultati della ricerca, no? Lo sviluppo di questo manuale vi prenderà tre mesi, quindi arriverete qui, in cui avrete il manuale, no? Per esempio. E questo, in genere, fa riferimento ad un altro WP. Quindi, in questo caso, questo diventerebbe WP3, diciamo, no? Questo, poi, è proprio un altro pacchetto di attività, ok? Per esempio, negli eventi, non so, quindi, questo vi aiuta un po', quindi, la prima fase, non so, diciamo che per arrivare, non so, al festival finale, voi volete organizzare dei workshop, prima, internazionali. Quindi, il primo WP3 sarà la realizzazione di un workshop in Inghilterra. Quindi, il workshop in Inghilterra avrà una serie di... Voi descriverete nel dettaglio, no? Come ci arriverete al workshop in Inghilterra, quindi prima, non so, ci sarà la selezione degli artisti. Quindi, per esempio, dico, vi fate un piano in cui, ecco, in tre mesi noi dobbiamo aver selezionato tre artisti e poi li dobbiamo portare al workshop in Inghilterra, quindi il nostro prodotto finale sarà il workshop in Inghilterra. Poi, per esempio, il workshop in Inghilterra, però, è legato anche... Alla produzione di un corto, per esempio. Alla produzione di un corto. Quindi, un altro prodotto di quel workshop in Inghilterra sarà la produzione di un corto. E va qui. E magari, sì, va qui. Perché, in parallelo, per esempio, cioè, questo vi aiuta un po' ad avere una... Una visione temporale. Una visione temporale dell'attività. Per esempio, avete due attività parallele. Avete il workshop in Inghilterra, però, allo stesso tempo, ecco, fate ricerca per il documentario. Quindi, ecco, lo mettiamo qua. Iniziate a fare questa ricerca per il documentario. Quindi, tre mesi di ricerca per il documentario. Quindi, vi fate quelli che si chiamano deliverables o milestone. Quindi, piccoli passetti. Quindi, non so se dico cose scontate, se non... Quindi, ecco, qui avete risultati della ricerca. Poi, praticamente, ci sarà tutta la fase di, non so, di ripresa, di scritturazione degli attori. Non so, e quindi questo è un altro pezzettino. E così vi dicendo. Questi, diciamo, possono essere anche dieci, per dire. Vi aiuta, diciamo, a vedere effettivamente i piccoli passetti che servono poi per raggiungere il vostro obiettivo finale, che è quello di, non so, creare un festival o creare... Sì, promuovere il dialogo interculturale tra Inghilterra, Francia e Spagna. Quindi, sono quei piccoli passetti che vi aiutano poi a raggiungere il vostro obiettivo finale. Quindi, questo qui, essendo relativa alle voci delle attività, si può dividere in tante attività che ovviamente fanno scendere questo giù e comporre tutta la visione temporale. E questo è fondamentale per la pianificazione, anche per pensare alla sostenibilità e anche alla fattibilità di tutto il progetto. Ok, poi la comunicazione. È buona norma che la comunicazione accompagni tutta la fase di un progetto, specialmente quello europeo. Quindi, metterete che la comunicazione inizia qua e finisce a 24 mesi. Quindi, per esempio, che significa? Che magari il primo mese, insieme ai partner, avete sviluppato un piano di comunicazione. Nel secondo mese avete fatto il sito. Il bando. Il bando per le persone che volete selezionare per il corso. Sì. O anche semplicemente l'inizio delle attività, come primo step. Sì, sì, sì. Cioè, in genere, per esempio, è buona norma quando tu fai anche il primo meeting. Quindi qua nel management, non so, no? Qui praticamente il primo mese iniziano le attività, il secondo mese c'è già il kick-off meeting, no? In genere, il kick-off meeting è buona norma a fare anche una presentazione pubblica del progetto, perché è vero che voi non avete ancora i risultati. Però, dato che la Commissione ci tiene tanto alla promozione dei risultati, anche dire che esistete. Insomma, stiamo iniziando un progetto, no? Quindi, sì, una conferenza stampa, insomma, qualcosa che riuscite ad organizzare. C'è un incontro, cioè un momento del meeting che è aperto al pubblico, insomma. Senza fare una cosa che magari vi può portare via risorse finanziarie, però all'interno del meeting prevedere una mezza giornata in cui magari i partner si presentano e c'è la presentazione del progetto a tutto il gruppo di lavoro, renderlo aperto al pubblico, così chi vuole venire, insomma, può partecipare come auditore. Cioè, l'idea è che la comunicazione, voi vi dovete fare, poi, insomma, tu lo sai per lavorare in un'agenzia di comunicazione, quindi probabilmente ti aiuta questo, cioè, dovete pianificare la comunicazione perché è un processo continuo, è un'attività trasversale, un processo continuo che accompagna tutto le fasi di progetto. Anche quelle che non sono magari più strettamente relative al festival, alla rassegna o quello che sia. Sì, e quindi, non so, quindi sono tutte quelle attività, ma sviluppo di, ecco, insomma, la prima cosa che si farà, magari ecco, nel primo mese facciamo il logo, secondo mese o il terzo mese facciamo il sito, parallelamente sviluppiamo le brochure. Quindi, comunque dovete sviluppare una strategia che è basata sul vostro target group di riferimento. Quindi, per esempio, se il vostro target group sono i giovani, quindi probabilmente sfrutterete molto, no? Web 2.0, Sì, sì, social network. Se il vostro target group sono gli anziani, è normale che dovete sviluppare magari altre attività di comunicazione. Quindi, per esempio, li potete anche dividere, magari dopo vediamo un attimo, per esempio, non so, magari in linea generale mettete materiali di advertising, materiali, diciamo, stampati, quindi lo mettete in generale. Quindi, poi lì farete brochure, magari locandine, oppure farete comunicati stampa, comprerete degli spazi pubblicitari, non so, qualcosa di gioco. E quindi questo... Fino alla fine. Fino alla fine. Diciamo che vi aiuterà anche mettere qui, per esempio, nel primo mese, in cui concordate con i partner un piano di comunicazione, perché la comunicazione magari avrà un responsabile, che in genere è bene che abbia competenze di comunicazione, se possibile, insomma, abbastanza fondamentale, e che quindi deve monitorare tutto il processo, magari... Che è il coordinatore della comunicazione. Sì, che coordina tutti i prodotti di comunicazione, e per esempio è quello che si prenderà in carico, non so, lo sviluppo del sito, per esempio. Quindi per questo magari avrà allocato un budget maggiore, perché si occupa del sito. Però questo non toglie che tutti quanti i partner, magari che sono responsabili di altri WP, siano allo stesso tempo attenti alla comunicazione, per cui in ogni sito, newsletter, social network, si preoccupano di diffondere sempre le idee del progetto e le attività. Sì, la comunicazione deve essere fatta anche a livello locale dei partner, quindi è buona norma che ogni partner abbia una pagina di progetto sul proprio sito, che periodicamente pubblichi degli aggiornamenti sulle attività, è stato fatto il secondo meeting di progetto, quindi deve essere una responsabilità condivisa. Diciamo che in genere questi pacchetti qui sono pacchetti che si chiamano trasversali, perché comunque devono essere condivisi da tutti i partner. Ci sarà poi sempre un leader, verrà assegnato una persona che comunque coordina. Quindi c'è un coordinamento generale e poi ogni, diciamo, attività che voi implementate, a seconda delle competenze, avrà, diciamo, una persona responsabile. Poi il WP, lo sfruttamento dei risultati. In genere, questo inizia, per esempio, quando avete, magari lo faccio un altro colore, avete pubblicato, non so, i risultati della ricerca, avete detto che li rendete pubblici? Allora, praticamente il vostro WP in genere inizia da quando avete i primi risultati. E quindi da lì, anche qui, magari ecco il primo mese, concorderete con, oppure lo fate un momento, un mese prima, per concordare, diciamo, un piano di sviluppo con il sfruttamento dei risultati. E quindi, per esempio, qui direte che, ecco, i risultati della ricerca saranno utilizzati per, saranno disseminati, saranno, insomma, fatte attività di lobbying, saranno, insomma, sfruttati, diciamo, adeguatamente. Quindi anche questo, praticamente, diciamo, in genere, in genere inizia con il primo deliverable e poi si porta fino alla fine dei 24 mesi. In genere, per esempio, qui viene firmato il copyright agreement, che il copyright comunque è fondamentale, sì. E' un'altra attività che viene sviluppata all'interno del progetto, perché soprattutto nel caso di produzione di materiale che va commercializzato, anche se non va commercializzato all'interno del progetto, ma magari come sostenibilità voi prevedete che possa essere poi venduto a delle case di distribuzione, allora in quel caso ovviamente è fondamentale che ci sia il copyright agreement all'interno del partenariato. Quindi, dovete anche, diciamo... Quindi anche lì bisogna stare attenti a come lo si crea, a tutte le... alla normativa, che sia una normativa uguale per tutti a livello europeo, insomma, anche lì magari un'assistenza. Sì, un'assistenza. Perché immagino che in questo caso serva, ad esempio, il legale che conosca bene anche il diritto d'autore, d'autore, sì. Sì, magari... Il diritto d'autore. Vero che non si fa in Creative Commons, ne parlavamo io. Sì, sì, in genere per i progetti europei si opta, in genere, non è detto, specialmente questi progetti culturali o comunque di formazione, eccetera, in genere si opta per Creative Commons, però non è detto, questo poi diventa... Magari all'interno della vita del progetto si fa in Creative Commons o poi si può fare una cessione temporale dei diritti, non lo so poi come funziona, magari nello specifico, però... Perché l'idea è che se dobbiamo diffondere i risultati, se comunque vogliamo impattare sul territorio, se vogliamo cambiare la situazione di partenza, se abbiamo identificato un bisogno, ovviamente il nostro progetto più disseminato, più aperto e più sfruttato, più... più visto, più utilizzato e più... crea valore, no? E crea impatto. Però, per esempio, quando si lavora a livello europeo, spesso all'inizio, anche in fase di design, eh, ma... forse è anche bene parlare del copyright, perché alcuni paesi in cui questa tematica è molto forte, loro sono i primi che dicono ma io però non posso utilizzare i risultati della ricerca che mi hanno commissionato. Allora, bisogna mettere in chiaro già dall'inizio che se tu porti dei materiali, devono essere liberi dal copyright, perché il partenariato non può incorrere in stazioni penali, magari perché comunque considerate che è un progetto in cui partecipativo, in cui ogni partner mette a disposizione i propri materiali, il proprio know-how, la propria idea. quindi se tu non sei pronto a condividere, quindi alla base se tu per esempio hai fatto, sei un centro di ricerca, dico così, hai fatto, sei stata commissionata in ricerca che comunque non puoi pubblicare i risultati, non li porti all'interno del partenariato, perché comunque ci deve essere un agreement sul fatto che vengono utilizzati dei materiali copyright free, senza il copyright. Quindi diciamo che poi ci sono dei paesi in cui questa cosa è più sentita che in altri. Ok, poi la qualità e il monitoraggio comunque prevede tutte quelle attività che appunto servono per monitorare il progetto. Quindi, per esempio, nel primo mese il primo prodotto che farete è concordare con i partner in un piano di qualità in cui praticamente descrivete le attività che farete. Quindi, per esempio, ogni meeting verrà somministrato un questionario per capire se non so il progetto è chiaro, se tutti conoscono il loro ruolo, se sono d'accordo. Se sono d'accordo, insomma, bisogna sempre un po' monitorare. Se hanno dei dubbi sulla rendicontazione, cioè ci sono tanti aspetti e partono dall'inizio. Dall'inizio, sì. E hanno sempre bisogno di indicatori anche questi che sono specifici. Per esempio, magari nel quality plan, insomma, se nel kick-off meeting avete pianificato che tutti i partner partecipano e invece poi non partecipano tutti, comunque avere un monitorato questa cosa poi è più facile quando scriverete il rapporto per esempio intermedio in cui dovrete dire che sì, un partner per motivi non si è presentato al meeting però l'ha fatto via Skype quindi anche per avere strutturato un piano di qualità vi serve anche voi per... Anche se può succedere che un partner a un certo punto decida di lasciare questo è la diciamo l'aspetto negativo che può succedere che un partner decide di lasciare di abbandonare il progetto e anche c'è successo questa cosa quindi in quel caso è un progetto approvato è possibile ma questo non determina che... Allora se tu ottieni il finanziamento con il minimo dei partner e uno di questi viene a mancare in quel caso devi sempre in ogni caso anche se non è il minimo dei partner e fare riferimento all'ECEA e quindi cercare una soluzione insieme per vedere se il progetto può sopravvivere oppure oppure no a noi è capitato che un partner a un certo punto non era diciamo d'accordo su come era stato diviso gestito il budget nonostante avesse firmato l'accordo e niente è andato via con 6.000 euro non si è più visto e noi però l'abbiamo sostituito con un altro trovato insomma in un brevissimo tempo e quindi è entrato in un secondo momento nel partenariato e abbiamo quindi iniziato tutta una conversazione con l'ECEA per inserire questo nuovo partner nel progetto ovviamente quella parte del budget ormai era andata quindi e quindi non c'è possibilità di sanzionare un comportamento del genere no l'ECEA poi comincia un controllo fa tutto il controllo del perché il partner è andato via diciamo una sorta di processo però per capire come sono andate le cose cosa non ha funzionato di chi è la colpa se c'è una colpa come ad esempio su ebay ci sono delle valutazioni quindi magari venditori non affidati il partner non affidati ad esempio in queste banche dati di partner non c'è la possibilità di leggere lo storico del partner no infatti c'è il consiglio anche per esperienza personale di affidarsi non affidarsi alle banche dati cioè nel senso è sempre meglio partire dai contatti diretti da organizzazioni che magari ecco se è andato in vacanza hai fatto il festival in Portogallo hai conosciuto le persone sai come lavorano eccetera e quindi anche se magari non hanno esperienza a livello di progettazione però ce l'hai tu e quindi lì introduci lì formi su questa cosa oppure quindi sempre è meglio da partire da una rete esistente poi non che oppure da associazioni che hanno organizzazioni che hanno già avuto un progetto approvato quindi li trovate sui compendi eccetera le banche dati vanno bene perché magari cioè non è che non vanno bene però bisogna sempre che abbiamo poi tirato nel partenariato all'ultimo momento che non conoscevamo poi è diventato nostro partner per altri due progetti perché comunque lavoravano bene quindi insomma alla fine è anche un po' questione di fortuna sì cioè nel senso che per questo dicevo le cose di facciata perché ci sono tante organizzazioni che lavorano con tanti progetti europei e poi dopo magari non mettono niente di contenuto e magari può mi ricordo infatti cioè loro comunque avevano tante esperienze progetti europei almeno dal sito eccetera così quindi però poi magari se non rispettano le regole di rendicontazione purtroppo è così quindi per questo ci vuole un po' di tempo anche per costituire un partenariato perché tu devi conviene anche chiamarli fare Skype call capire se hanno capito bene la rendicontazione alcuni partner lo chiedono altri no come per esempio ha intenzione di suddividere quando gli verrà data la prima tranche o meno quindi anche a buona norma spiegare come sarà la governance del progetto per chi specialmente non è abituato ai progetti europei quindi magari spiegare che io sì sono il capofila riceverò tutto il finanziamento ma poi verrà distribuito secondo poi la mia volontà nel senso che io decido in quanto coordinatore se all'inizio darti il 30 il 40 il 15 insomma in genere si inizia con delle piccole quote si fanno rendicontare per rodare cioè difficilmente gli viene dato tutto il 75% perché un conto che esce fuori con 6.000 euro un conto che ne esce fuori con 36.000 però per esempio ci sono partner che alcune volte alcuni progetti danno direttamente se l'acea danno il 50% del budget quindi appena arrivano i soldi danno subito il 50% dell'ammontare della quota dei partner poi se lo fanno rendicontare poi cioè dipende un po' ovviamente dipende dalle attività perché se io sono il partner 5 la mia attività inizia dal 12esimo mese fino al 24esimo non è importante che tu per il primo anno mi dai tanti soldi mi puoi dare giusto diciamo una parte per coprire tutti gli incontri i meeting una prima parte però meno sostanziosa la maggior parte dei soldi che avrò in un secondo momento diciamo per facilità perché quando si gestiscono partenariati di 7 8 10 partner magari si fanno delle tranche 30 no? si inizia con 20 poi il 30% poi tutti in parte uguali perché è più facile e poi però bisogna avere un po' una flessibilità perché spesse volte magari effettivamente no? se un tutte le attività sono trasversali quindi per esempio tutti verranno al kick off meeting quindi rendi conteranno tutte le attività di staff tutti avranno iniziato le attività di comunicazione quindi metteranno a rendi contazione la persona che ha iniziato a lavorare alla comunicazione del sito magari che ha iniziato già a sviluppare il sito porterà rendi contazione alla fattura eccetera quindi più o meno tutti avranno già intercorso delle spese avranno già sostenuto delle spese inglese italiane avranno già sì sostenuto delle spese però magari non tutti e poi bisogna sempre tenere presente che i partner bisogna fargli proprio entrare nella capoccia nella testa che devono rendi contare il totale cioè finanziamento e cofinanziamento non solo il finanziamento quindi perché quindi il totale del progetto quindi quel 20% sarà una parte di cofinanziamento una parte di cofinanziamento però i budget europei devono essere magari dopo lo riprendiamo magari congeliamo un attimo qui e poi magari riprendiamo questa cosa così se no ci riprendiamo nel budget se no dopo mi ne vado e quindi poi qui iniziano tutte le attività di qualità e monitoraggio per esempio non solo il monitoraggio del progetto ma a un certo punto non so avete fatto un festival ah volete però monitorare no ecco qui metterò un deliverables perché voglio monitorare non so l'impatto che ha avuto il festival sui quante persone quante partecipanti quindi questa sarà un'attività a parte che voi svilupperete avete fatto un training quindi non so dite che svilupperete una strategia di valutazione quindi elaborerete non so dei questionari all'inizio e alla fine del 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 training per vedere se effettivamente le aspettative sul training coincidono se hanno se la qualità del training è stata buona se le competenze sono state effettivamente acquisite eccetera quindi diciamo che in alcuni per esempio nell'LLP nella vecchia insomma nella vecchia programmazione chiedevano obbligatoriamente questa metodologia ma nel programma voltura no tu potevi non era obbligatorio diciamo però diciamo come organizzazione di base del lavoro per comparto è molto più comoda perché poi è più facilmente gestibile sì perché voi diciamo avete un gant quindi poi magari è quindi qui il primo kick-off meeting qui dovremmo aver fatto il sito qui il secondo kick-off meeting qui il terzo ah qui c'è il festival quindi avete proprio un quadro d'insieme di tutte le attività che vi aiutano a poi no a sviluppare il prodotto il progetto praticamente perché poi alla fine il progetto sono tutte una serie di attività no una dentro l'altra quindi quindi questi diciamo sono quelli fondamentali sono quelli che sono importanti per la comunità europea perché avete visto comunque in qualsiasi formulario ti chiedono come come sfruttate i risultati come ricomunicherai i risultati del tuo progetto quindi come se tu indichi dei beneficiari come li raggiungerai quindi anche man mano che scrivete il progetto in realtà state creando il vostro gante quindi per pacchetti lo riportate quindi queste sono le cose fondamentali allora l'una meno un quarto mamma mia allora una una metodologia che pensiamo che può essere utile per pianificare no ogni attività è questa che chiamiamo il blueprint modeling quindi adesso vi spiego un po' perché ovviamente ogni attività che voi svilupperete avrà diciamo un inizio no ed una fine ok convolgerà delle persone delle risorse quindi qui le dovete indicare quindi non so mi servirà sabba per 8 giorni al mese per sviluppare questa attività quanto mi costa sabba sabba mi costa 10 euro al giorno quindi sono messo qua 10 giorni e qua insomma mille euro no? beh ok scusate la matematica poi le risorse di che cosa avrò bisogno per far lavorare per far lavorare sabba adesso adesso non so magari adesso ecco non mi viene in mente perché se magari ha bisogno di un post di un computer di un computer ecco di un software e quindi ve lo mettete qui e magari qua anche scrivete ah quindi non solo i costi di staff ma anche i costi di software materiali comunicazione quindi allora noi abbiamo pensato che può essere utile pensare la vostra idea progetto sì magari sì se volete o anche in due gruppi se volete o insieme siete allora adesso abbiamo pensato che magari per buttare un draft no? una bozza di progetto iniziate proprio a pianificare quindi scegliete una delle due che sono venute fuori ieri quindi 24 mesi iniziate a capire più o meno cioè riportando questa struttura quindi partite dal giorno 1 dal mese 1 facciamo per mesi perché per giorni poi ovviamente diventa complesso e pensate uno sviluppo fino alla conclusione del progetto per cui non lo so qui direte che per fare il coordinamento che vale tutto all'arco di vita del progetto fino al mese tot farò questa cosa cioè ci impiegherò per fare e organizzare il primo meeting un mese questo mese coinvolgo un tot di persone che mi costano questo e avrò bisogno di queste risorse quindi cercate di fare tutto creare riportare su questo schema tutta la vita del vostro progetto organizzandola per step successivi che siano sia uno sviluppo temporale che poi trasversale perché comunque comprendono tutti questi aspetti allora l'idea è quindi di iniziare a lavorare così poi per esempio potreste no lo stesso discorso lo potreste fare per ogni work package quindi per esempio la qualità la qualità va dall'1 al 24 avrò bisogno di un tot di persone quanto mi costano queste persone e di quali risorse avrò bisogno non so decido di comprare un software no per il monitoraggio e la valutazione avrò bisogno di un valutatore esterno perché in genere suggeriscono di mettere a budget non è obbligatorio però diciamo suggeriscono di mettere a budget come subcontratti un valutatore esterno quindi magari lo potete fare per l'attività per il festival se pensate che magari vi può aiutare a strutturare meglio linea progetto lo potete adattare direttamente che poi il work package 2 diciamo rispetto a questi che abbiamo fatto noi cioè nel senso che vediamo un po' magari come vi trovate meglio a lavorare intanto magari potete buttare una bozza del progetto e poi magari in modo che poi potete decidere anche di spostarlo di lo so di cambiare il tempo volete fare prima cosa e poi un'altra perché questo lavoro perché per la cosa che abbiamo detto good value for money voi in molti formulari dovete giustificare dovete giustificare i costi dovete spiegare la razio dietro la pianificazione del budget quindi non so il vostro è un progetto di ricerca dico così quindi è molto lavoro intellettuale no quindi se avete bene in mente che non so avete messo 100 giorni per i ricercatori questo vi aiuta a poi a spiegarlo nel formulario cioè perché avete messo 100 giorni per i ricercatori perché comunque è un lavoro intellettuale richiede molto tempo state sviluppando il festival no e non so è un festival di architettura e quindi dovete mettere a budget non so il legno per le scenografie per dire quindi perché mettete a budget il legno delle scenografie no quindi dovete spiegare che scusate se non lo mettete a budget non potete raggiungere l'obiettivo l'attività perché ogni spesa che voi mettete nel budget deve essere giustificata e deve essere valutata efficacemente ed efficiente ed ovviamente è collegata a tutte le altre voci del progetto quindi deve essere sempre avere una connessione temporale con le risorse umane con il budget appunto e con le risorse che vi servono quindi questo è sempre tutto correlato fate un progetto che prevede la mobilità di dieci artisti o dei musicisti magari fate tutto il progetto e poi vi siete dimenticati i soldi per le trasferte o i costi di viaggio magari devi affittare gli strumenti in un altro posto gli impianti i service quindi questo diciamo è vero che il budget lo fa al capofila però è buona norma chiedere per esempio quindi avete strutturato l'idea parlare con i partner per capire che tipo di costi hanno bisogno perché per esempio voi avete una sede quindi il kick-off meeting lo fate nella vostra sede non avete bisogno di affittare una stanza ma però magari il vostro partner invece sì oppure i costi di traduzione magari voi li dovete esternalizzare invece il vostro partner no beh facciamoli provare vediamo come vi ritrovate quindi riportate questa struttura scegliete un work package se è quella della vostra idea progetto non lo so se prevedite farne un altro se per esempio prendete il festival come progetto quindi quelle attività servono per sviluppare un festival alla fine no a contattare gli autori fino alla diffusione sì di che risorse avete bisogno magari il festival non finisce con la chiusura del festival magari fate delle attività di follow up non so di monitoraggio o non so decidete di fare una conferenza stampa anche alla fine del festival per dimostrare i risultati della vostra quindi diciamo è una è uno strumento visivo che vi aiuta a pianificare quanto tempo ne vogliamo dare? 30 un quarto d'ora? 10 minuti che ore sono? 1 a meno 5 facciamo 10 minuti e poi magari riprendiamo un attimo dopo perché queste sono come vi dicevo bisogna sempre indicare il numero delle giornate a cui di un project manager di un amministrativo poi al numero delle giornate è affiancato un costo reale quanto ti costa un project manager eccetera quindi per questo devono essere anche misurabili in termini finanziari per organizzare un festival è la prima cosa che si fa è trovare un posto dove farlo ce l'avete a pagamento o meno? a pagamento sicuramente a pagamento a nuovo non l'ingresso comunque vedete che questo vi serve anche a ragionare perché magari voi fate un budget ah sì tanto non lo so il posto ce l'ho invece poi vi rendete conto che non basta oppure ah che costi ci servono il service non leggiamo il teatro però il teatro deve essere in questo gratuito o a pagamento perché abbiamo rientro questo potrebbe essere un problema perché se vuoi fare una cosa condivisa con tante persone all'interno del progetto forse è gratuito come come se si fa appunto all'interno del progetto deve essere per cui no in realtà nel cultura poi anche sì sì cioè nel senso è previsto lo sbigliettamento però quello è praticamente soldi che non no che non cioè tu fai un previsionale quindi pensi di vendere 100 biglietti però poi quello non rientra nel grant della commissione diciamo però poi sì cioè non puoi utilizzare quella somma per esatto nel senso che non puoi richiedere alla comunità europea di coprirti quel preventivo sì però per esempio se tu pianifichi guarda secondo me se vi date degli obiettivi reali secondo me riusciamo a vendere 100 biglietti a 5 euro quindi 5 mila euro secondo me riusciamo a raggiungerli quindi per esempio ve lo potete mettere anche questo no finanze guarda 5 mila euro secondo me li prendiamo così con lo sbigliettamento lei tu hai organizzato un festival quindi no noi siamo con l'associazione la prima cosa che si va allora un attimo perché perché il nostro caso era più facile perché era insomma era nel corso dell'anno diciamo di un appuntamento fisso comunque posto forse parti con gli autori ma pure con le persone che ci lavorano iniziamo quante persone ci vogliono per organizzare mettete pure le persone che per esempio pensate di far lavorare come volontari e quindi cercate di però insomma iniziate a pensare a pagare il lavoro delle persone qualcuno ha un cellulare qua vicino non so se è l'iPad quindi sei persone questo è per l'organizzazione mettetevi anche un obiettivo temporale quindi no siete a giugno e volete fare il festival a dicembre non lo so dico così quindi dobbiamo avvicare diciamo a dicembre perché anche quando se vi potete è anche un obiettivo temporale sapete che entro totto dovete fare quindi diciamo il nostro punto d'arrivo è dicembre che è il insomma in cui si terrà il festival e il nostro punto di partenza è giugno ok ci lavorano nell'organizzazione si le persone allora ci lavorano si persone in generale finanze quindi abbiamo il costo di gestione allora gestione location ecco ogni anno la location giù staff interno e si quindi metto staff interno staff interno quindi mettiamo diciamo che lavora per tutto per sei mesi quindi mettiamo un po' metti mille euro per sei mesi sto lasciando delle cime io non eh infatti sto lasciando delle cime no cerchete sì no 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 cercate no cerchiamo di lavorare un po' su numeri reali perché per esempio poi voi avete questo piano di sviluppo andate da anche uno sponsor guardate noi abbiamo previsto che per quindi abbiamo fatto questo budget cioè ci dobbiamo far lavorare un tot di persone ci riservano queste risorse tu ti presenti con un budget fatto bene no è già un'altra cosa e quindi chiedi quanto ci potete cifre piccole per insomma simboliche per capire il meccanismo che ti ha perché dici mille euro mille euro scrivi un po' affetto allora va bene mettiamo allora mille euro poi vediamo poi vediamo chi è che si occupa della comunicazione e quindi vengono pagati tutti nella stessa maniera tutti lo stesso stipendio e beh perché poi ognuno di noi nel corso di questi mesi si occupa di un aspetto vabbè questo per adesso lo potete mettere eh sì diciamo però però 6 persone per 6 mesi allora sempre allora l'associazione mettiamo che prende eh no adesso speriamo alto mettiamo eh beh cosa è? ah mettiamo allora 10.000 ok no 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 aspetta sì infatti devo mettere sì finanze sotto 6 persone poi la location ad esempio questa doveva messo sempre finanze e risorse poi magari qua metti il costo va messo lì sì e se lo dobbiamo fare la corrispondenza quindi se questa è la location la location metti che ci costa eh per tutti i mesi per tutti i mesi no per la sera per le giornate del festival ma stai dando per scontato voi potete lavorare in un posto che non vi costa niente no no lo mettiamo mille euro per tre giorni metti che sono tre giorni sì allora mille euro no nel senso che tu devi considerare il costo dello staff di queste 6 persone per 6 mesi da giugno a dicembre lavoreranno ci avranno un ufficio quindi devi considerare il costo dell'ufficio o devono lavorare a casa se già hai una sede va bene però non so se magari no allora mettiamo che che avete una sede quindi quello è ammortizzato più che altro per non andarci a incassinare sì sì allora abbiamo una sede quindi abbattiamo il costo della location nostra dove lavoriamo e lavoriamo sui nostri computer con i nostri software quindi diciamo non abbiamo questo tipo di attrezzature quindi mettiamo che il festival è di 4 giorni quindi la finta della location è di 4 giorni 4 giorni dalla mattina alla sera e quindi non bastano è una domanda dipende dipende dalla capienza dalla richiesta questo è simbolico sì lo ripeto è sempre simbolico quindi mettiamo per la location poi se nella location avete bisogno di attrezzature e sì infatti quindi dovremmo dovremmo mettere quindi l'allestimento le spese per l'allestimento e le spese per il service quindi ma questa la facciamo qui la diciamo no? e sì e sì allora sì quella va là potete anche farvi una nuova divisione sì ah per esempio un'altra cosa forse non lo so se mi aiuta perché praticamente se per esempio io decido di fare un convegno no? alla fine del progetto per presentare il progetto devo indicare esattamente quante giorni dura e quante persone mi aspetto che vengano no? sì quindi non so se vi può aiutare no? anche per per stimolarvi per programmare perché un conto se fate un festival che siete contenti che raggiunga non so mille persone un conto se invece pensate in grande che ne conti di più sì e quello a cui influenza ovviamente anche la comunicazione la comunicazione le location insomma una comunicazione a livello locale una cosa che invece vogliamo fare una comunicazione a livello insomma nazionale oltre e sì quindi quindi adesso mettiamo qua cosa prima il service e l'allestimento però per l'allestimento metti che chiamiamo perché vogliamo fare un festival bello chiamiamo un architetto che si occupi di un allestimento particolare scenografo allora scenografo e lo mettiamo su persone e lo devi mettere più o meno eh all'inizio proprio e sì perché dobbiamo comunque progettare il tutto quindi lo scenografo e quindi mettiamo che lo scenografo per questo progetto si prende non è di cui il reggimento il sacco dei soldi no non lo so neanche io quanto 6.000 euro anche noi sì sì metti 6.000 euro solo per la francia mettiamo che abbiamo inserito anche l'acquisto di materiale l'acquisto di materiale in 6.000 euro se li facesse bastare 6.000 euro tutto incluso diciamo il suo compenso più materiale la realizzazione diciamo la realizzazione sì la formula all you can do questi so anche il trasporto tutto incluso questo degli ospiti no aspettate vediamo prima poi abbiamo il service no? con un'ora il service però ma soltanto solo in questi giorni e per se c'è qualche convegno c'è qualche vorrete chiamare l'era quanto costi il service 4 giorni audio audio tutto anche i video tantissimo quindi il service adesso anche qua l'affitto della sala con 4 giorni questo è 1.000 euro 6.000 e vabbè ma 1.000 euro magari invece che abbiamo fatto tutta proprio sì lo avevo completamente rivoltato allora che lo facciamo al castello allora abbiamo fatto enjoy al castello comunque magari chiediamo una scenografia di insomma un particolare 4 giorni comunque ne facciamo una diversa ma la scenografia tu includi anche quelli che ti realizzano tutte le cose le brochure no è un'altra cosa la comunicazione che però deve andare di pari passo con lo scenografo perché per esempio no vi mettete anche una deadline andiamo a vedere con lo scenografo le location qua iniziamo a contattare gli autori io non lo so io non so sì in questo mi conviene il tempo molto meno suddividono in modo che è fatto un mini-gant all'inizio c'è un lavoro di ricerca però da giugno a dicembre sono sei mesi non sono tanti quindi questa ricerca vuol durare due settimane comunicazione ad esempio va a persone cioè se persone all'interno del nostro staff c'è chi si occupa di comunicazione quindi questo va a finanze no non e tu lo metto incluso nei decimila praticamente sì queste persone sì è coperta la comunicazione è composta cioè poi se magari volete sternalizzare parte della comunicazione ma io sono abituale come facciamo noi facciamo tutto in casa sì ma però non guadagnate niente cioè non vi date un valore no al vostro lavoro no nel senso che comunque per la comunicazione esternalizziamo i servizi di stampa piuttosto che il sito quindi per esempio lo mettete no quanto vi costa tipografia sì tipografia e sito vedete una cosa è sicurata c'è qualsiasi risorse che la tipografia è sterna perché non penso che mi stampate anche tutti i materi quindi quella non siamo ancora arrivati a questo livello stampate laser per stampare tutti i propri ci arriveremo allora tipografia considerato che facciamo ad esempio brochure volantini banner manifesti facciamo anche del merchandising da vendere durante i quattro giorni più il materiale il kit da dare agli ospiti quindi cartelline forse e quant'altro però il merchandising pure qua lo potresti mettere magari con un altro no magari in un altro colore sotto queste sono uscite queste sono uscite eh sì tipo potresti mettere secondo me faccio 100 corsettine le vendo a 3 euro non lo so e quindi metterli pure magari in un altro colore no quindi un attimo tipografia tipografia è giallo tipografia è giallo per far confondere anzi è rossa va no va a finanza finanza è rossa per me sì infatti avevo sbagliato colore è verde finanza è verde tipografia è la spesa però devi mettere in risorse comunque sì è una risorsa tipografia metti che ci costa considera sempre l'arco temporale se qua questo è i tre mesi eh no però allora tipografia va insomma da quando iniziamo a lavorare con la comunicazione in realtà in anticipo prima devi stabilire un po' di tutto poi a metà no allora aspetta il sito già parti dal sito che deve partire prima il partito la tipografia se l'evento è dicembre può andare a livello del quando chiami no prima qui no deve andare molto prima o a metà perché se un evento che se tu è un festival che fai per coinvolgere devi fare un pubblicizzato parecchio devi pubblicizzare bene quindi a metà deve stare il livello pubblicità esattamente a metà perché così tu sai già quello che devi fare bene o male e poi deve arrivare alla fine poi invece il sito va prima sì il sito dell'epatia è subito perché così può contattare le persone all'inizio e avere i primi feedback magari potete anche iniziare con una promozione su facebook e poi tra poco il sito anche l'appuntamento su internet sì per contattare e poi contattare i vari registi e la CI per le opere la CI si paga l'ultimo la CI eeeh che c'è un'amico la CI ha comunque è incredibile come siamo talmente abituati a lavorare su piccoli budget a fare le cose in casa che non ci cioè che neanche ci ci viene non ci neanche immaginiamo neanche nell'immaginazione cioè non riusciamo neanche a immaginarle capito queste cose questa cosa è una tragedia cioè no se ci pensi perché siamo talmente io mi ricordo pure in un altro corso di formazione un corso di formazione avevano fatto un project work e dovevano pianificare un'attività mi pare un festival con degli artisti cioè quindi tu sei libero di mettere tutti i costi che vuoi sei libero di mettere tutte le cose che vuoi noi lo siamo si no cioè questi ragazzi che hanno fatto no no gli artisti non li paghiamo tanto loro devono fare esperienza ma come no no però aspetta noi noi non ci siamo pagati ma gli artisti li paghiamo sempre ma pagatevi anche voi ma pagatevi anche voi cioè nel senso che siamo talmente abituati no che neanche ci permettiamo il lusso di immaginare invece ci dobbiamo ci dobbiamo permettere questo lusso poi la competenza deve essere pagata io sono sempre questo parere voglio dire se infatti se no quando mi chiedo mi chiedo se non è un soldi con la ragazza se non è io sono amico esatto mi sono accordata mi sono accordata perché c'è conflitto di interesse ma è vero ci possiamo in pieno conflitto di interesse ma siamo in Italia ma è il progetto europeo il progetto europeo però allora quindi stavamo dicendo il pagamento per i registi e per gli ospiti perché magari prevediamo proiezioni e prevediamo workshop devi calcolare il progetto quanto prendono per vedere il loro arrivo l'ospitalità e dovresti prevedere anche delle persone che gli stanno dietro se lo fai proprio la cosa come si deve per chi si occupa delle traduzioni ma anche proprio uno è 10.000 euro ma non lo può è impossibile lo so scherzato lo so qua cioè se tu hai 6 persone alla progettazione non puoi prendere quelle 6 persone e metterle attaccate agli autori uno più uno noi dobbiamo trovare ma ci sono i volontari eh sì vedi tu in seguito devi calcolare un costo di quelle persone poi vedi che costano troppo e li fai diventare volontari ma intanto li prevedi nei tre giorni di festival alla funzione esatto che ho un fratello che assume mio nonno viene a fare il volontario ma scusate ma io ho voluto rischiare con budget simbolici per questo perché è ovvio che adesso se vogliamo insomma fare budget reali ovvio che questi sono sproporzionati era per capire il meccanismo sì sì ma infatti adesso comunque scherziamo però giusto per fare vedere che c'è ovviamente che ad esempio la location se lo facciamo una se lo facciamo magari a ente pubblico come ci è capitato che ci dicono va bene entrate insomma siamo vostri vostri vediamo insomma la partnership il patrocinio e infatti c'è capitato abbiamo fatto il castello di Mura di Bari non abbiamo pagato insomma l'affitto della location perché il comune ci ha dato il patrocinio quindi magari se abbiamo la fortuna di trovare una location pubblica bella abbiamo l'ente pubblico che ci va da Pafner questo già è un posto che va via no però c'è tutto l'allestimento del luogo tirato allo scenografo che magari vuole le sedie particolari tutte le cose no allora Matic questo è un festival di animazione no è un festival di animazione quindi sono tre giorni con i workshop quindi dobbiamo contattare i registi e magari se facciamo una mattina dei workshop con i bimbi dobbiamo contattare degli educatori o chi si occupa di fare laboratori con i bambini quindi i registi e gli educatori più siamo molto molto e tu puoi anche pensare che gli educatori o noi i registi possono vedere anche prima dei tre giorni effettivi del festival per poter elaborare qualcosa con i bambini e presentarlo durante il festival magari lo elaborano a casa come? magari questa parte di preparazione la possono fare a casa così tu riduci il costo della giornata dipende cioè se tu vuoi incontrare i bambini è uno o due giorni prima ci servono anche materiali per fare i workshop eh sì allora infatti con i registi allora aspetta con i registi eh qua finanze allora metti che sono invitiamo sono tre giorni invitiamo un ospite di insomma ogni giorno due ospiti importanti mettili due grandi e due leggermente minuti fai comunque il numero quant'agento puoi invitare sto menando poi lo rendirei secondo me metti due grandi due minori che dai una grande tre giorni eh sì tre giorni quindi metti per quindi due ospiti oppure uno uno stadino un italiano uno stadino un italiano grande poi magari puoi mettere due i sordienti che fanno pubblicità cose così considerate sempre che vengono dall'estero perché se è un progetto europeo sì allora mettiamo due ospiti allora mettiamo due ospiti importanti al giorno no? ah addirittura quindi adesso diventano sei persone due, quattro e sei non ho detto adesso due perfetto tu stavi parlato di 50 persone scorsese no però americano quello è quello all'interno sei quindi sei registi sì sì non rava perché poi in America cosa di più allora sei registi a cui dobbiamo pagare volo picco all'orcio ed eventualmente traduzione traduttore quindi mettiamo un po' un budget e poi mettiamo 10.000 penso che ci sta sei persone no poco no no così sei persone sei persone no fai mettiti quasi 500 e questo per essere e però mettici pure il tradotto no 500 sono 3.000 euro già per i viaggi questo lo devi portare il post cioè se lo devi portare presto facciamo 150 litri 9.000 9.000 stai considerando che magari questi vogliono anche essere impagati e non solo avere l'ospitalità vabbè adesso stiamo antagerando poi molto più capitale 10.000 si ci fa bene e si appunto poi metti gli educatori che invece fanno i laboratori la mattina però gli paghiamo poco 5.000 5.000 dicendo cosa ho detto ma non lo so volevo dire che se è un progetto europeo quindi ci sarà anche un kick-off meeting qua da qualche parte no per fare questo lavoro con i partner anche però ora stiamo concentrato sul work package del festival sì è vero giusto sì ok quindi quello entra nell'altra sì nell'ora diciamo nello sviluppo ok ok sì sì ma l'altro e sì allora gli educatori li contattiamo li contattiamo poco cioè tipo un mese prima eh sì un mese prima allora metti secondo me lì devi contattare i registi poi si deve sviluppare con loro anche secondo me perché magari i registi possono dare delle linee guida per infatti in un progetto europeo per esempio no far lavorare dei registi giovani stranieri con degli educatori per esempio cioè allora per esempio fate venire un regista da Portogallo uno dall'Inghilterra uno dalla Francia che lavorano con degli educatori locali però anche degli educatori francesi inglesi e portoghesi no organizzate un workshop eh tra loro e esce fuori il concept del festival per esempio no quindi qua avete diciamo li fate lavorare quindi insomma c'è il scambio il dialogo interculturale eccetera però poi alla fine create qualcosa cosa che è diverso che è l'innovatività e che grazie allo scambio tra educatori, registri eccetera è uscito fuori il concept di un festival che è adatto dico una cavolata alle scuole che ha detto a giovani che ha dato non lo so dico così quindi adesso insomma sono solo idee però mettete insieme anche tutti i componenti cose diverse che potrebbe uscire cioè tra paesi diversi figure professionali diversi registi, artisti, educatori pubblica impresa non lo so quindi insegnano la scenografia del festival e di storia di soluzione sì sparano in semila di scenografia quindi mettete insieme cose diverse e provate a immaginare quello che uscirà fuori no? ma fatti fuori di un peggiatore pensi che ha sfruttato sì ma diciamo che di è sì 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 non so se ci vediamo sì ma ti fai giocato tagliamo questa parte bambini fateci il regista ci vuole che nel lume ci fai del 10 mila euro l'avvocato dipenderci dal progresso mi sono persa quindi c'era la ah per quanto riguarda la comunicazione allora ammetti che il primo mese si progetta diciamo il piano di comunicazione l'ho proprio si si scusa e per questo abbiamo detto di 10 mila euro poi il primo mese magari si si pensa il piano di comunicazione dal secondo mese in poi si inizia diciamo a lavorare al sito dal secondo barra terzo mese in poi si inizia a lavorare al materiale cartaceo quindi metti per il sito facciamo una cosa semplice in cms con un template gratuito scaricato da internet quindi metti il sito 200 euro proprio in economia 200 euro 200 euro che cosa cosa sarebbe il dominio no credo che devi prendere il dominio apposta tra l'altro no il dominio e 60 no non prendiamo un dominio apposta facciamo una sottocategoria nel sito dell'associazione ma non è possibile facilmente va bene sì diciamo a volte a volte quando arriva il contratto delle ACE avete descritto che loro vogliono un sito apposta per il progetto allora un sito apposta allora no non in tutti eh non in tutti però sì ma in vista comunicativo è la cosa che io e poi anche per la sostenibilità cioè pensate a un sito che non sia un sito un sito che può attivare una comunità attorno alle idee del vostro progetto quindi quanto lo fate durate mettete ma io infatti per questo dicevo se è un sito temporaneo questo volevo capire se è un sito temporaneo che quindi può essere può essere ad esempio un sottodominio del sito principale in questo caso ma puoi fare sì diciamo che un rediret all'interno di quello tuo ma nel frattempo hai comunque un dominio raggiungibile subito come ricerca sì però diciamo è bene che sia proprio a parte che sopravviva poi ok allora è il sito del personale questo è per sei mesi ma il tuo progetto durare due anni ma come minimo deve durare altri due o tre anni diciamo questo però e dopo magari scrivi nel progetto che voi a budget avete messo tre anni di dominio e poi dopo metti quel discorso che fai tu che dopo lo ridiretti al tuo sito perché io invece pensavo di fare semplicemente insomma una sottocategoria del sito principale quindi 1500 euro è meglio dare più visibilità possibile poi mi pare che il sito considerando che europeo il sito è l'appunto di riferimento principale per tutta la rete di parte saliale e quindi di considerare qualcuno che gestisce costantemente gestire il sito ci pensa chi all'interno si occupa di comunicazione e tu fai un sito con interfaccia admin che devi praticare Lorelli dice al programmatore mi devi fare una cosa che io posso insomma postare immagini eccetera collegate socialmente come si chiama interfaccia? admin ah ok tu praticamente sei insomma tu sei amministratore del sito praticamente hai un pannello di controllo e poi pubblicarti tu anche se non sei un programmatore ti fa una cosa molto semplice per questo avevo detto il cms tu quale preferisci di wordpress joomla 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 quale preferisci è semplicissimo perché a livello di inter la dashboard ricorda tantissimo word quindi davvero è molto semplice poi credo che a livello di indicizzazione sia ottimo perché comunque viene indicizzato bene puoi mettere le tag gli articoli perché altre piattaforme joomla si diciamo poi è una questione mi sembra troppo schematica wordpress anche dei big template anche quelli insomma ce ne sono gratuiti che poi magari tu puoi andare a cambiare ma ce ne sono a pagamento alcuni proprio belli quindi insomma no perché per esempio un altro progetto europeo avevamo usato wordpress soltanto che il sito poi era tradotto insomma in tutte le lingue e wordpress comunque aveva difficoltà con sette lingue perché comunque la differenza tra un sito adesso stiamo facendo un altro ok ok scusate sto dopo a pranzo sì sì e l'anno la metti 1500 euro hai messo e paghi tutto paga lui sì io vedo che arriva in lì ben arrivati a ridotto dell'evento è tipografia però non aveva messo allora con tutto il ben di dio che dobbiamo fare perché comunque considerato che vogliamo puntare molto sul merchandising faremo borse faremo t-shirt faremo spinette scrivi scrivi e quando quindi quanto investirete quanti soldi investirete in questo 4 5 6 7 8 9 10 numeri al calcio io sto chiamando no non voglio no sui 3000 euro 3000 3000 no secondo me almeno 8000 avevano una cosa risicata 8000 è una cosa risicata? allora innanzitutto so anche l'elaborazione grafica quella penso che venga inclusa nelle sequestriche del staff interno no 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 almeno io metterei anche 12 13 il merchandising la cosa i manifesti i volantini le prosciute i programmi gli inviti cioè c'è una quantità di no mattia 8000 facciamo 10 facciamo 10 non so se non diceva oltre i 30.000 è uno dei valori in base ma per questo ho dato noi non siamo abituati a gestire usiamo il soldi del monopoli ripassate dal via perché è semplice comunque no però questo mi fa capire come in realtà voi dovete cominciare a pensare non nella piccola certo non dovete sparare i cifili però che sono realistiche vi permettono poi ovviamente magari nel partenariato avete qualcuno che è bravo nella comunicazione che ha risorse interne che vi fa la linea grafica noi in un progetto praticamente tutta la linea grafica ce l'ha fatta un partner per cui sono stati i costi che non abbiamo messo abbiamo messo soltanto il costo del dominio perché poi lui si è occupato di tutto e si è occupato però nel previsionale tu adesso ovviamente non sei ancora che sono domani cioè questo esercizio diciamo non lo sai quindi allora qua devi mettere 1.30.000 per noi visto che dobbiamo appuntare anche perché la devi considerare questo tu devi considerare l'ordone non netto ah poi metti IVA però poi i contratti le sessioni contatti la persona delle posizioni poi bisogna pagare anche un commercialista vabbè quelli sono costi che non puoi mettere in ricontazione nel senso che rientrano nei costi indiretti rientrano in te però diciamo a budget europei non è che li puoi mettere quelli sono costi di gestione sì però li consideri in quella città lì sì sì un'altra cosa poi infatti Laura dice bene questo esercizio vi serve anche perché alcuni partner vi possono chiedere ma quanti giorni di lavoro sono due anni di progetto ma quanti giorni di lavoro mi ci vorranno qui e quindi questo aiuto vi dice guarda secondo me devi cioè ci vorranno tre persone del tuo staff che lavorano per in due anni non so 50 giorni non è che non è che è vero consideri un'altra ma mi sono ricordata di conoscere il costo di un festival non farò il nome perché se no viene registrato ed era intorno di 300 mila questi erano di quattro giorni 300 mila quanto è venuto tutto 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 compreso questo era il costo che vuoi sentire poi riduci da 30 mila allora poi le persone anche bisogna un po' dividerle perché poi in genere in un budget devi mettere non in tutti però la maggior parte dei budget europei sono divisi in categorie quindi il project manager io consideravo che sei persone non è che tutti fanno tutto cioè ovviamente all'interno dell'associazione chi si occupa dei contatti chi si occupa di scrivere chi si occupa della comunicazione cioè comunque ci sono ruoli ben divisi e poi la necessità si finiamo in un minuto è giusto se vuole raggiungere qualcosa la parte finale e poi vediamo perché l'uno e mezza anche perché magari dobbiamo ritornare qua per le due e mezza perché magari si presenta qualcuno quindi no dobbiamo anticipare perché finiamo prima non viene c'è un altro tipo della RAI no perché le docenti sono insomma dobbiamo prendere l'aereo ah ok pubblicità su Facebook pubblicità ah quella pagata la scrittura sì eh qua stiamo pochi a scialare c'è la popola ci vuole 280 mila euro ecco sì perfetto qualcuno mi ha detto che si poteva fare anche per la metà della cifra che avevo fatto quindi 150 rientriamo con il discorso comunque poi dipende perché alla fine il festival magari no è vero che non è detto che il festival ti paghino paghino gli artisti non è chiaro non è assoluta prendono solo prendono solo è simbolica esatto prendono solo per un oggettone un gettone nel monopoli tipo oppure gli si dava con il cioccolatino con la caccia di un euro gli davano una giornata in più di vacanza tipo o il giorno prima o il giorno dopo tutto pagato non potevano farsi quello che voleva in un giro per li portavano con l'hostess li portavano a vedere il mare per magari non allegge è vero a legge facevano una cosa tipo ad agosto così tutti gli autori venivano a fare solo dalle 6 in poi per cui tutta la giornata dovevano una vacanza al mare quindi non prendevano soldi ma facevano la mattina di vacanza e poi andavano nel pomeriggio insegnavano era una cosa che si chiama sale in documento non esiste più e poi l'ha disegnato vabbè però diciamo fai accordi con gli alberghi con le agenzie locali e quindi la pubblicità quando iniziamo su facebook la pubblicità quando inizia a fare un messaggio non troppo prima su facebook non troppo prima sì perché passa altrimenti un messaggio prima poi era bello le attività di guerriglia marketing che avevi detto sì infatti quella è interessante perché magari possiamo possiamo prevedere ornare la città come? ornare la città e sì appunto possiamo ad esempio prevedere non so tipo dei flash mob piuttosto ad esempio ho visto uno molto carino che hanno fatto in spagna per pubblicizzare l'opera lirica ah lei l'hai visto anche tu sì sì in pratica stavano hanno messo dei cantanti d'opera al mercato il mercato della frutta verdura e sì insomma stavano proprio dietro il bancone a un certo punto inizi a cantare poi attacca l'altro poi attacca l'altro e la gente si guardava così infatti qualcosa del genere è carino a Napoli nessuno se ne accorgerebbe perché quanto non è politica non è corretta no si taglia anche questo ma lo facciamo a posto allora va bene io direi che sì 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 quindi riprendiamo le due e mezzo grazie 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 a tutti